Amici e amiche di Peppe Hitech, bentornati sul canale. Quest'oggi voglio iniziare subito con dei saluti Gamer, Shit, Ferro, Jack e Pippo. Ragazzi approfitto anche di questi saluti per dirvi una cosa. Quest'oggi alle 17.30 saremo in live. Io, Deadguy90, Simone, Iesel88, Fabio e poi ci raggiungerà a destra il 94 in un secondo momento in live sul mio canale e porteremo Warzone. Ragazzi mi raccomando, vivo agli in tanti, seguiteci, ditelo agli amici e a tutti quanti e fateli partecipare alla live di questo pomeriggio. È la prima, speriamo che tutto vada bene, incrociamo le dita. Se ci dovesse essere qualche problema tecnico vedrò di risolverlo il più velocemente possibile. Mi raccomando, seguitemi in tanti, venite, commentate e ragazzi ci vediamo nel pomeriggio allora. Ciao a tutti. E a dopo.